ciao a tutti ragazzi sono megatome 911 e benvenuti in questo nuovo video il primo video di una nuova serie che da oggi sarà presente sul mio canale che tratterà unicamente e tipicamente quelle che sono le mie creazioni i mega jigs questa nuova linea di jigs che sono 100 per cento in the made che produco io dall'inizio alla fine comprese le armature interne passanti al jig fino all'utilizzo delle vernici insomma è un qualcosa che creo dal nulla e dall'inizio alla fine in questo video in particolare andremo a trattare dello sparrow nelle sue due versioni la 60 grammi e andremo ora a parlare di tutte le sue specificità di tutte le sue caratteristiche e in quali tecniche consiglio di utilizzarlo e parleremo anche dello sparrow il suo fratello maggiore lo sparrow 90 grammi destinato principalmente ad un utilizzo per le tecniche verticali da un'imbarcazione andiamoli a vedere più da vicino bene ragazzi eccoci qui adesso andremo a dare un'occhiata più da vicino a quelle che sono le mie creazioni per quanto riguarda i mega jigs in questo caso vi parlerò del primo della lunga serie ormai delle dell'escan the made che produco soprattutto metal jigs e in questo caso andremo a parlare dello sparrow sia nelle sue versioni da 60 grammi come vedete ne ho di tanti colori adesso andremo a dare un'occhiata un po' a quelli che sono i campioni che ho realizzato e soprattutto andremo ad analizzare anche gli sparrow da 90 grammi nella loro nella sua versione comunque più grande partiamo dallo sparrow 60 grammi allora lo sparrow 60 grammi è un jig dal della lunghezza di circa 9,5 centimetri e rientra nella categoria del long knife jigs ossia è un jig dal termine inglese long knife sarebbe un jig a lama di coltello che è leggermente piatto in pancia questo per favorire un migliore sfarfallamento in in fase di calata e perché non volevo un jig che fosse troppo sottile che si usa con correnti forti ma volevo in questo caso una via di mezzo fra quello che è un jig da vertical e un classico jig da utilizzare a spinning barra short jigging questo è un jig che ha un baricentro piuttosto uniforme il baricentro si trova più o meno nella parte centrale c'è una leggera accentuazione della robustezza a livello di posizionamento di piombo comunque a livello di pesistica soprattutto al centro in modo da giocare proprio sul sulla parte centrale del corpo che poi ne è il suo baricentro questo è un jig che grazie alla sua forma fusolata e lunga allo stesso tempo pur essendo come vedete abbastanza spesso e robusto soprattutto nella parte centrale e adesso vi vado a spiegare anche perché oltre lo sfarfallare in acqua la sua forma molto aerodinamica ci permette anche dei lanci molto lunghi e utilissimo soprattutto in casi in cui abbiamo delle predazioni quindi dei predatori che si trovano a parecchi metri di distanza dalla spiaggia o da qualsiasi sia il nostro spot di pesca grazie a questo jig e alla sua forma molto affusolata nonché allo stesso tempo anche robusta ci permetterà di raggiungere anche distanze veramente veramente importanti distanze che tecniche come lo short jigging senza dubbio esigono poiché è una tecnica che si pratica soprattutto da riva in cui la il casting range quindi la distanza di lancio e la potenza di lancio della canna sono fondamentali per raggiungere il maggior numero di metri possibile quando si va a lanciare un jig del genere il fatto che sia robusto un pochettino più robusto quindi che ci sia una maggiore concentrazione di peso qui nella zona del baricentro quindi al centro del jig in pancia serve non soltanto a fargli avere un movimento fluttuante sott'acqua che grazie a questa parte olografica che io ho deciso di aggiungergli in contemporanea ad un movimento sinuoso e molto adescante emetterà anche dei luccichi degli sbrilluccichi laterali che imitano quello che è un pesce moribondo comunque un pesce in difficoltà oltre a questo inoltre oltre all'emettere questi sbrilluccichi in calata questo jig ci dà anche la possibilità anche se raccolto senza dei pitching o senza delle cercate secche ci dà la possibilità grazie a questa concentrazione maggiore di peso in pancia questa robustezza maggiore in pancia rispetto a testa e coda ci permetterà di farlo scodin solare anche sul recupero regolare quindi recuperato regolarmente il jig non farà come gli altri jig che scodano diciamo in maniera un pochettino più accentuata ma andrà a scodin solare in maniera ancora più accentuata proprio grazie a questa distribuzione di pesi che ho scelto per questo jig quindi una distribuzione di pesi studiata soprattutto per l'adescare i predatori anche più diffidenti questo è un jig che si rivolge a dei predatori un pochettino più grandi come dimensioni perché essendo un jig da 9,5 centimetri del peso di 60 grammi già si rivolge ai classici predatori dello show jig che possono essere le palamite i tonnetti alletterati le ricciole le lecceamia i barracuda i serra insomma i predatori di una certa importanza e mole logicamente come colorazioni mi sono un po sbizzarito quello che abbiamo davanti è un holographic bicolor ho deciso di dargli questa diciamo la parte di pancia gliel'ho data con questo rosa fluo che è stato poi riverniciato con un con una vernice trasparente e un glitter dorato per conferirgli proprio questo leggero sbrillucighio in acqua la stessa cosa ho fatto dalla parte di schiena l'ho colorata di un blu notte e un blu comunque che è spesso utilizzato anche nei jig un colore utilizzato anche nei jig di produzione industriale allo stesso tempo sempre lucidato ancora di più diciamo reso ancora più brillante da una passata di spray trasparente e da un po di glitter color oro spero che la telecamera riesca a mettere bene a fuoco i colori gli occhi sono degli occhi 3d che sono posti all'interno di un incavo che si presta proprio a questa dimensione degli occhi questi sono occhi che io ho scelto e che combaciano perfettamente con quella che è la parte concava con l'incasso che è stato disegnato già nello stampo per questo jig al fine proprio di inserirvi un occhio che potesse inserirsi in questa parte concava perfettamente inoltre da non sottovalutare anche la forma che abbiamo voluto dare nella parte delle branchie c'è un leggero una leggera parte in rilievo che dà ancora più realisticità al jig avendo queste queste branchie praticamente in rilievo adesso si vedrà meglio anche in questo modello qui che è completamente giallo questo qui ragazzi è un colore una colorazione che spesso mi viene richiesta è un colore nemo nemo perché ha un inframmezzarsi di diciamo il colore nemo si ispira sempre al classico film della pixar nemo che in cui praticamente il protagonista è un pesce pagliaccio che ha proprio questa livrea diciamo simile siamo più sull'arancione ma ci sono queste bande rosse o arancioni inframmezzate da queste bande bianche qui come vedete qui ho utilizzato un glitter multicolor trasparente sempre occhi 3d con un giallo intervallato da bande bianche qui invece ho preso un classico testa rossa anziché fare il colpo interamente bianco come può essere per esempio in questo caso nel suo fratello maggiore da 90 grammi ho deciso invece di creare una colorazione nemo red e quindi delle bande rosse glitter dorato intervallate da bande bianche con appunto una passata anche di nero per dare maggiore effetto ai confini come proprio ad imitare la livrea del pesce pagliaccio anche se poi se ne modificano i colori i jig che produco sono anche disponibili nella loro versione glow questo qui in particolare è uno sparrow black quindi un colore nero con glitter multicolor ma che come vedete ha queste bande di nastro glow che non danno assolutamente fastidio a livello di come dire aerodinamicità quindi lanciabilità dell'artificiale o di idrodinamicità perché il jig si muove benissimo il jig è stato testato e ha dato ottimi risultati soprattutto nei confronti delle palamite nello stretto di Messina vedete la cattura sul mio profilo instagram come vedete queste parti di queste parti biancastre che poi sarebbero le parti glow se attivate con una torcia ovvio semplicemente con l'utilizzo se volete anche di una comune torcia da testa che si utilizza che ormai tutti utilizziamo nella pesca soprattutto nelle tecniche notturne tutte queste parti biancastre si andano si andranno ad attivare ad illuminare attivando quelle che sono le proprietà glow del jig andando poi alle varie colorazioni ne ho fatti di quelli 60 grammi veramente tanti colori ho fatto un blu nemo un bicolor olografico blu e rosa un bicolor giallo e arancio glitterato azzurro ma poi ragazzi si possono personalizzare come lo si vuole questo è un nemo olografic in questo caso ho dipinto la testa di un arancione con un po di glitter blu perché io quando faccio i jig ragazzi voglio che il jig brilli in acqua che sia che si faccia notare che si veda perché oltre a un buon movimento che comunque produce vibrazioni e stimola il predatore il jig deve mettere anche dei lampi di luce non indifferenti perché spesso anche da quelli deriva poi lo strike la boccata quindi dobbiamo ho cercato di mettere all'interno del jig che produco tutti quegli elementi che secondo me sono essenziali ai fini di aumentare le possibilità di strike ce ne sono anche di altri tipi in questo caso ho cercato di imitare un pesce insanguinato andando a sfumare questa parte olografica rossa cercando di dare vita anche ad una colorazione insanguinata diciamo così per quanto riguarda invece questo modello questo è un modello molto particolare che anche se ha delle bande olografiche verticali questo è anche glow infatti se noi ora spegnendo la luce lo si vedrebbe ma comunque anche se non ha il nastro glow e prima di essere stato reso impermeabile attraverso impermeabile ed indistruttibile grazie all'utilizzo di resine epossidiche bicomponenti che rendono il jig molto duro creano una vera e propria pellicola un vero e proprio strato di protezione che eviterà che il jig vi si vada a sverniciare a perdere l'olografia o a perdere colore inoltre vi dà una grande resistenza contro gli attacchi dei predatori che non lo scalfiranno nemmeno pur avendo apparati dentali abbastanza appuntiti e sviluppati questo è un olografic nemo blu ma tutta la parte bianca e la parte di testa sono anche glow quindi attivabili di notte sono attivabili le sue proprietà glow per quanto riguarda infine l'ultima versione che è quella lì da 90 grammi questo qui è il suo fratello maggiore come al solito impermeabilizzato con il trasparente versione redhead quindi testa rossa olografico e in più ho messo un po di giallo fluo come ad utilizzarlo anche nei cambi di luce spesso questo colore giallo fluo un po come lo si usa in altri long jerk nel commercio ho voluto fare una piccola codina lì proprio dove c'è scritta la grammatura 90 grammi ripeto questo è lungo 10,5 centimetri e gli ho dato questa piccola punta di giallo fluo giusto per renderlo adattabile anche nei momenti di cambi di luce e come vedete di questi ne ho fatti anche tanti anche in questa versione in cui praticamente non vi è soltanto la testa colorata ma l'intero corpo del jig viene colorato abbiamo sempre occhi 3d branchie in rilievo carta olografica maggiormente posta sul jig in modo che emetta questi sono da utilizzare nel vertical jigging poi che pesano 90 grammi o dallo spinning pesante sempre offshore quindi dalla barca al tonno proprio per invogliare anche gli esemplari diciamo più scettici ottimi anche da lanciare per fare appunto spinning al tonno laddove voi doveste per caso incrociare una qualche mangianza di tonni sono veramente ottimi perché grazie alla loro forma fusolata e al loro movimento ad escanti ai flash laterali che emettono riuscireste a lanciarli molto lontano e a invogliare sicuramente un qualche predatore e l'armatura è passante in acciaio passa attraverso tutto il jig e è stata anch'essa rinforzata con la resina ipositica al di fuori ovviamente quando poi il pesce va a boccare l'artificiale non si scalfisce io ho voluto creare un prodotto che può sembrare semplice nelle verniciature ma che al contempo contenga tutte quelle caratteristiche che io voglio in un jig ossia attrattività movimento attrattivo design e aerodinamicità affidabilità e idrodinamicità insomma tutte queste piccole caratteristiche che in realtà piccole non sono perché poi fanno veramente la differenza come vedete mi sono sbizzarito ne ho fatto anche di rossi insomma qualsiasi colore voi vogliate nel listino prezzi poi se mi scrivete se per chi fosse interessato mi scrivete un vostro indirizzo email nei commenti sotto al video e vedrete insomma tutti quanti i modelli che produco con i relativi prezzi le relative caratteristiche tecniche addirittura nel listino sono anche indicate le tipologie di tecnica di pesca per le quali il jig si presta meglio ad essere utilizzato quindi ragazzi che dire ho cercato di realizzare un prodotto che fosse il migliore possibile un prodotto che richiede parecchi giorni di lavoro ma che comunque sono molto soddisfatto di aver creato perché è veramente resistente affidabile e soprattutto è efficace l'abbiamo testato fino alla nausea la noia e posso veramente ritenermi soddisfatto del prodotto che ho creato perché ha dato veramente vita a una novità una novità nel campo handmade e l'aspetto che hanno è un aspetto voluto del dipinto a mano perché io ragazzi i miei jig li dipingo per la maggior parte a mano quindi l'aspetto che vedete è proprio l'aspetto che io gli volevo dare un aspetto semplice ma allo stesso tempo dettagliato e che sia affidabile molto lanciabile e soprattutto adescante e un buon compagno di pesca in tutti i sensi in tutte le sue caratteristiche quindi ragazzi che dire spero che questo video vi sia risultato utile e interessante per chiunque fosse interessato ripeto mi scriva il suo indirizzo email sotto nei commenti del video io gli invierò il listino completo dove vedrete tutti i modelli che produco descritti dettagliatamente per lunghezza gammatura colore categoria tecnica d'utilizzo e prezzo e vedrete anche come sono una volta che sono quando ancora sono grezzi e le varie modifiche che io poi vado ad apportare nelle foto che poi saranno che saranno poi inserite all'interno del listino vedrete poi le varie modifiche che io posso fare anche a livello di colorazioni chiaramente di colorazioni se ne possono fare quante ne volete l'importante che quando li volete mi dite il colore che volete e io ve lo realizzo e quindi che dire da Megadome non è tutto condividete il video se il video vi è interessato e se c'è qualcun altro che come me è appassionato di jig and made per me un jig and made è un jig che deve esprimere ciò che il creatore ha voluto mettere appunto in atto nel realizzarlo e tutte quelle caratteristiche che io volevo ci fossero in un jig in questo jig le ho inserite quindi che dire altro da Megadome non è tutto io vi saluto e ciao ciao